Vicinanza e massima solidarietà all'azienda, ai titolari e a tutti i dipendenti. Così Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, esprime i suoi sentimenti in merito al vasto incendio che nella serata e nella notte tra lunedì e martedì ha colpito la Donati Legnami, marchio storico del territorio. Appena avvisato di quanto stava avvenendo, dicara il sindaco, mi sono recato sul posto, mi sono reso conto di quanto fosse esteso e distruttivo il focolaio. Sono rimasto lì a lungo e colgo l'occasione per esprimere il ringraziamento più sentito all'opera dei vigili del fuoco, i nostri e quelli provenienti da fuori, che con la loro professionalità e anche il loro coraggio hanno impedito che le conseguenze dell'incendio assumessero proporzioni maggiori e pericolose anche per le attività circostanti. Su quanto avvenuto, il Comune di Sansepolcro ha messo un'ordinanza a scopo preventivo concertata con i responsabili dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria. Ordinanza valida a cinque giorni e rivolta ai residenti nel perimetro di 300 metri del luogo oggetto del focolaio. Si raccomanda di non raccogliere frutta e verdura nei propri orti per il pericolo di polveri e ceneri ricadute e si consiglia di tenere ricoverati in luoghi chiusi gli animali da cortile. Al momento la ricerca, subito attivata di sostanze tossiche o nocive disperse durante il rogo, ha dato esito negativo.